Massimo Misiti, specialista in ortopedia e traumatologia calabrese di Cinque Frondi, in provincia di Reggio Calabria, è stato rieletto nel Consiglio Direttivo Nazionale del Collegio dei Chirurghi Italiani. È sicuramente un momento molto importante e di grande responsabilità, nel quale assolutamente bisogna tutelare quelle che sono le possibilità dei cittadini di curarsi in tutta Italia, nella stessa maniera, senza avere delle pregiudiziali che riguardano i territori. Ciò impone una presa di coscienza di quelle che sono le varie espressioni territorialità della chirurgia e fare in modo che su tutto il territorio ci sia la possibilità di avere stesso trattamento e stesse cure. L'ortopedico calabrese, giunto al suo terzo mandato, sarà uno dei cinque consiglieri che compongono il direttivo di questo collegio, all'interno del quale sono rappresentati ben 65.000 chirurghi italiani. Gli obiettivi sono innumerevoli. Noi abbiamo lavorato molto con il pregresso mandato sul rischio clinico. Adesso stiamo cercando di scendere nei territori regionali e cercare di creare un gruppo di lavoro che faccia partire i centri di riferimento regionali per quanto riguarda le patologie, che non sono soltanto le ortopediche ma sono la rete chirurgica che poi spero si possa fare anche in Calabria. E anche la Calabria possa assorbire quelle che saranno le linee guida di questo nostro lavoro, che sarà fatta insieme all'Agenas, che è l'Agenzia regionale per i servizi sanitari, e all'Asso Biomedica. Il mio mandato non è regionale, il mio mandato è un mandato nazionale. Io spero soltanto che la Calabria possa sicuramente fare riferimento a quelle che saranno le linee nazionali, le linee guida nazionali su quella che è la rete delle chirurgie. E' indubbio che la Calabria in questo momento è decisamente indietro rispetto a quelle che sono le condotte nazionali per quanto riguarda la salvaguarda della migrazione sanitaria, rispetto dei turni di lavoro, per quanto riguarda il numero di medici per ogni branca chirurgica. Ma questo è un contesto veramente difficile su cui lavorare, in quanto la Calabria è in un momento veramente drammatico.